Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parleremo delle graduatorie provinciali. Oggi parleremo insieme di come iscriverci alle graduatorie provinciali e di istituto. Innanzitutto andiamo su istanze online. Arriviamo ad accedi all'istanza. Sappiate che per iscrivervi alle graduatorie provinciali dovete avere un'identità digitale Speed e avere a portata di mano il vostro smartphone e il codice personale. Clicchiamo accedi all'istanza. Entra con Speed. Selezioniamo poste ID. Ora utilizzeremo per entrare il QR code che ci permette con l'app poste ID di entrare molto più velocemente. Molto bene, ora attendiamo che il nostro smartphone ci richieda il controllo, l'accesso per proseguire nell'app. Confermiamo, consentiamo ed entriamo. Abbiamo qui già selezionato la seguente istanza di delle graduatorie provinciali e di istituto. Potete leggere ovviamente tutta questa parte, io però ora passo velocemente. Clicchiamo su Accedi. La provincia è già selezionata perché in questo caso la domanda è già inserita, ma andiamo avanti. Voi dovrete scegliere la provincia di vostro interesse, una e una soltanto. I dati anagrafici, controllate bene che siano corretti e andiamo avanti. Vediamo le azioni disponibili. Aggiungiamo graduatoria. Vedete il tipo di graduatoria. Ci sono le graduatorie per le supplenze, scuola dell'infanzia e primaria, per il personale educativo, per la secondaria di primo e secondo grado, per gli ITP, gli insegnanti tecnico-professionali e per il sostegno. Sapete una cosa, le graduatorie provinciali sono delle graduatorie divise in due fasce. Nella seconda fascia vanno ad iscriversi coloro che hanno i 24 CFIU, il titolo di studio, quindi tutti i requisiti per la loro classe di concorso, ma non erano già iscritti in altre graduatorie e non hanno l'abilitazione di insegnamento. Io quindi selezionerò questa seconda fascia e sceglierò la mia classe di concorso, che è la A12. Titolo di accesso alla graduatoria è relativo al ponteggio. Ricordatevi che dovete avere i 24 CFIU e anche tutti i requisiti e gli esami richiesti per la vostra classe di concorso. Se vi serve qualche dritta per quanto riguarda gli insegnamenti obbligatori, scrivetemi un commento qui sotto e vi lascerò dei documenti. In questo caso flaggiamo il titolo di studio. Diremo quando l'abbiamo conseguito, qual è il nostro titolo di studio, la votazione. La votazione che nel mio caso è su base 110, ma se io non dovessi avere il punteggio, metterei questa spunta. Quindi chiedo di avvalermi del punteggio di 12 punti. Categoria di appartenenza La categoria di appartenenza può essere la prima, la seconda e la terza. In questo caso, se voi siete già stati inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per questa classe di concorso, flaggate qui. Io, che non sono mai stata inserita, certifico semplicemente di avere il possesso dei 24 CFIU, condizione essenziale per iscrivermi alle graduatorie provinciali d'istituto. Voi cliccherete inserisci, io clicco indietro, perché la mia domanda l'ho già presentata, questa è soltanto una simulazione. E adesso andiamo sui titoli ulteriori. Ho altri titoli accademici, professionali e culturali, che non ho messo però per accedere alla graduatoria provinciale. Ho, per esempio, delle certificazioni linguistiche, da enti certificati, ho fatto un master. Bene, tutto ciò viene valutato, ci sono le tabelle, ve le lascio qui in descrizione, per valutare i titoli. Di conseguenza, vedete voi che cosa inserire, anche le certificazioni informatiche, come per esempio le CDL. Per chi invece suona, cioè l'attività concertistica, suona una serie di titoli artistici, accademici e professionali. Adesso andiamo ai titoli di servizio. I titoli di servizio, fa te aggiungi i titoli di servizio. Dichiarate, ovviamente, la classe di concorso su cui avete insegnato e la graduatoria su cui far valutare il servizio. A parte per il sostegno, se voi avete insegnato nella A12, dovete dichiararlo per il servizio nella graduatoria A12. Servizio specifico. Per quanto riguarda il sostegno, invece, il servizio può essere anche a specifico 2019-2020. Valutazione articolo 15,4. Che cosa vuol dire? Questo articolo viene valutato soltanto per quanto riguarda coloro che hanno prestato servizio anteriormente al 2000. Quindi non è il mio caso. Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi UE. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho prestato servizio in Italia, non devo dire che sì e no. Il percorsi di istruzione dei paesi UE significa oltre all'Italia, quindi in paesi europei. Insegnamento su cui è stato prestato il servizio. A12. Tipo l'odio di servizio. Questo nel caso in cui siano nelle istruzioni, istituzioni statali e paritarie. E nelle scuole militari. Oppure qui, per esempio, per quanto riguarda i percorsi di formazione professionale. Che vengono valutati anche se meno. Qui metteremo il periodo di servizio. Vi farà il computo dei giorni automatico. L'istituzione presso la quale è stato prestato il servizio. La provincia, il comune. Voi farete inserisci, io clicco indietro. Potete continuare ad aggiungere altri titoli di servizio. Se voi avete prestato il servizio nello Stato, voi avrete già i servizi probabilmente inseriti da importare dal vostro fascicolo. Nel mio caso, io ho insegnato in un paritario e in un ente di formazione professionale, quindi ho dovuto inserire tutto manualmente. Dopodiché, andiamo nei titoli di riserva. Qui dichiariamo di possedere dei titoli di riserva. Possono essere supertiti di vittime del dovere, invalidi civili di guerra, invalidi di guerra, invalidi per il servizio, quindi leggete bene tutto e capite se rientrate in uno di questi casi. Altrimenti, lasciate bianco. Poi abbiamo i titoli di preferenza. Anche qui dichiariamo di avere diritto alle preferenze in base a determinati titoli, come le medaglie al valore, mutilati di guerra, gli orfani di guerra, feriti in combattimento, quindi leggiamo bene tutto e comprendiamo se ricadiamo in una di queste categorie. Questa opzione ha scatenato molti dubbi. Aver prestato senza demerito servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. Bene, pare che, per quanto riguarda questa condizione, voi la dovete selezionare nel caso in cui abbiate un certificato che certifica il vostro merito alle dipendenze dello Stato di pubblica amministrazione. Nel caso in cui voi non abbiate alcun certificato, sembra che non dobbiate flaggare. Vediamo ora le altre dichiarazioni. Nel mio caso metterò cittadinanza italiana perché sono cittadina italiana. Dovete vedere il vostro caso specifico. Sicuramente queste sono da selezionare. Anche qui, posizione regolare nei confronti del servizio di leva. Molte hanno detto, ma qui stiamo dichiarando il falso perché la leva non è più richiesta, noi siamo donne, eccetera. Leggete bene, c'è scritto, posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato. Quindi potete anche non essere stati chiamati. È da flaggare. Poi dobbiamo dichiarare di non avere condizioni ostative alla nostra presa di servizio. Quindi tutte queste vanno selezionate. Ovviamente vanno selezionate se non rientrate in uno di questi casi, altrimenti non potete iscrivervi alle graduatorie provinciali. Non essere soggetto a sanzioni disciplinari. Anche qui, dichiarare la consapevolezza dell'accertamento dei requisiti perché voi non dovrete mettere alcuna certificazione e una autodichiarazione, però state attenti, non potete dichiarare il falso perché se verrete controllati, verrete eliminati dalle graduatorie provinciali. Questa è soltanto per chi rientra in queste classi di graduatoria. L'idoneità, non avere procedimenti penali, condanne penali, l'indicazione obbligatoria della seguente dichiarazione e il consenso. Voi cliccherete inserisci, io continuo a cliccare indietro. Ora vediamo le sedi delle graduatorie di istituto. Anche qui, per selezionarle, dovete semplicemente cliccare sulla gestione sedi. Cliccate aggiungi sedi e fate cerca. Vedete, già avrete tutte le scuole della provincia, altrimenti se avrete un singolo comune, potrete selezionare il singolo comune. Nel mio caso, per arrivare neanche a 20 scuole ma a 13, devo assolutamente cliccare tutta la provincia. Quindi dipende dal vostro caso, se la vostra provincia è molto grande, magari avrete anche più di 20 scuole. Ecco, ho selezionato 13 sedi, che sono il massimo. Non vi preoccupate se le sedi non sono tutte. Non c'è nessun problema. Se voi non raggiungete le 20, selezionerete quello che è possibile. Andiamo indietro. Indietro. Gli allegati. Per quanto riguarda gli allegati, un unico file zip, solo per i titoli di studi conseguiti all'estero. Altre dichiarazioni non sono da inserire. Questa è una autodichiarazione. A parte per chi ovviamente ha conseguito titolo all'estero. Dopo aver fatto questo, potrete cliccare inoltra e la vostra domanda verrà inoltrata. Ecco, ora vedrete questo. Quindi potete visualizzare oppure annullare l'inoltro. Riceverete anche un PDF. Mi raccomando, controllate bene il PDF, perché spesso sta avendo degli errori. Eventualmente annullateli inoltro, qui, e poi reinoltratela. Ricordatevi che le graduatorie provinciali chiudono il 6 agosto alle 23 e 59. Fino ad allora potete ancora intervenire. Vi si genererà un PDF. Io non vi faccio vedere i miei dati personali, però vedrete questo. Allora, vi si genererà un PDF. Oltre ai dati personali vedrete la lingua della graduatoria, l'ordine della graduatoria. Controllate bene il titolo di accesso. Controllate bene che vi segni tutto in modo corretto. La data, la votazione, l'eventuale lode, che ad alcuni per esempio non viene segnata, anche se l'hanno inserita. Io sono stata fortunata perché alla prima inoltre sembra che sia tutto corretto. Ho selezionato e ho inoltrato la domanda di sera, tardi, e ho utilizzato Mozilla come browser. Se è tutto a posto potete tirare un sospiro di sollievo. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è come si richiede un nuovo codice personale. Quindi torno su istanze, su istruzione, istanze online. Eccoci, andiamo su funzioni di servizio. Cambio codice personale, se ce lo avete, o recupero del codice personale. Quindi in recupero metterete poi il vostro codice fiscale, poi ve lo manderanno via email. Spero di avervi aiutato. Buona iscrizione alle graduatorie provinciali ed istituto e continuate a seguirmi per quanto riguarda i video sulla letteratura per gli studenti delle scuole superiori. Grazie a tutti.